Pescara, smantellate tre piazze di spaccio a Rancitelli, i carabinieri arrestano 12 persone. Molise con i conti in rosso, aumenta l'IRPEF, l'assessore Cefaratti, non potevamo fare altrimenti impegno con il governo. Palestre, ristoranti e abbigliamento pagati con i soldi di una donna disabile di Lanciano, amministratore di sostegno nei guai. Meno infortuni, ma più malattie professionali a Campobasso, il forum della prevenzione con l'iniziativa Made in E-mail. Le naia di ancora polemiche, il consigliere regionale Blasioli attacca Marsilio, fide Iussione non consona alle norme per l'affidamento ventennale. Demolizione e ricostruzione dell'asilo di via Umbria-Isernia, il TAR rivoluziona la graduatoria per errori nell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione. Infine allo sport, il calcio di Lega Pro, Pescara Sciupone, Zeman arrabbiato con i suoi. Il Campobasso presenta il nuovo direttore sportivo, il Chieti, a una difesa bunker. Bentrovati, primo appuntamento con la nostra informazione. Siamo in diretta, in apertura c'è la cronaca, lo avete sentito dai titoli a Pescara, il maxi blitz antidroga giorno e notte. I carabinieri hanno smantellato tre piazze di spaccio nel quartiere Arancitelli, 12 arresti e due obblighi di dimora, smercio legato a prostituzione e distorsione. Ci riferisce tutto. Valentina Ciarlante. Inondavano di droga la città e tutto l'Interland. Eroina, cocaina, crack, ogni tipo di sostanza veniva smerciata a Pescara nel quartiere Arancitelli, dalle 12 persone arrestate in queste ore dai carabinieri. Sempre la stessa zona tristemente nota per un malaffare che parla anche di prostituzione, estorsioni, aggressioni. Il quartiere più difficile di Pescara, che nonostante l'abbattimento del ferro di cavallo continua a essere il punto di riferimento di un flusso imponente di assuntori. Un via vai continuo di giorno e di notte. Non a caso il maxi blitz dei carabinieri ha preso proprio questo nome. All'alba di oggi sono scattati arresti, perquisizioni e sequestri nel rione Villa del Fuoco, al culmine di un intenso periodo di indagine e accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Pescara. Appostamenti, pedinamenti, ma anche intercettazioni telefoniche e video, perché le organizzazioni attive, capeggiate da criminali esperti, molti con un passato in galera, erano attrezzate anche a livello tecnologico. Inoltre intestavano schede telefoniche a terzi, lasciavano la droga in luoghi pubblici. 12 arresti, di cui uno operato a Monte Cassiano, in provincia di Macerata, più due obblighi di dimora, misure disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara Francesco Marino, su richiesta della Procura della Repubblica. Sono stati tradotti in carcere qui dal comando provinciale dei carabinieri di Pescara in via d'annunzio i 12 arrestati nell'ambito dell'operazione giorno e notte, 100 acquirenti al giorno nelle tre piazze di spaccio che sono state smantellate oggi dai militari dell'arma e i pusher si erano organizzati con degli espedienti utili a evitare i controlli che pure sono sempre stati frequenti nel quartiere Rancitelli, ovvero porte con le inferriate, videocitofoni, telecamere e vedette per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. Un arresto è stato operato in flagranza, sequestrata anche una pistola dai 70 carabinieri sul campo con loro, cani e antidroga, gli elicotteri del quinto nucleo di Pescara e i colleghi di Macerata. Torneremo più avanti ad occuparci di cronaca, ora parliamo dell'IRPEF che sarà più alta per i cittadini del Molise, l'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni non tocchiamo redditi bassi ma era un impegno preso con il governo per ottenere i 40 milioni per ripianare il disavanzo, intanto il consigliere regionale Roberto Gravina attacca la regione, paghiamo a caro prezzo il contributo del governo. Sentiamo tutto da Stefania Potente. Poche ore dopo il salvagente lanciato da Roma al Molise per ripianare con 40 milioni il disavanzo di amministrazione che si aggira sui 570 milioni di euro, il governo regionale ha approvato una delibera che prevede l'aumento dell'IRPEF per i redditi superiori ai 28 mila euro. Una scelta obbligata, spiega l'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti, alla luce dell'impegno preso proprio col governo. In linea con quanto sta facendo il governo Meloni, salvaguardato le fasce sicuramente più deboli. Questo aumento era necessario perché i conti della regione Muniris non sono sicuramente in ordine e così come avevamo preannunciato per cui non c'è questa sorpresa in definitiva. Abbiamo concordato con il governo centrale una linea da seguire, noi abbiamo fatto il nostro dovere perché il governo centrale ci ha chiesto praticamente di aumentare le addizionali IRPEF e portarli al massimo per far sì che da parte loro ci potesse essere un aiuto così come si è concretizzato nei giorni scorsi e come si concretizzerà ulteriormente quando andremo a vedere la legge finanziaria per il 3 anni 2024-2026 per cui secondo me è un'operazione che porterà il Molise fuori dalle secche in cui attualmente è. Ma dall'opposizione non mancano le critiche del consigliere Roberto Gravina. Verrà aumentata l'IRPEF a partire dei redditi di sicuro non in più alti ma da 28 mila euro quindi si copierà in modo totale il ceto medio annullando quello che tra l'altro era un mantra per il governo Meloni, quello cioè di ridurre il quino fiscale e la riduzione dell'IRPEF. In Molise questo non avverrà evidentemente perché bisogna riparare ai danni che lo stesso centrodestra morisano in questi tanti anni di amministrazione regionale ha prodotto. Quindi una regione sommersa di debiti rispetto ai quali il governo ci tende una mano semplicemente chiedendoci di aumentare le tasse al massimo e questo chiaramente sarà un problema non soltanto evidentemente per le famiglie che dovranno sostenere questo costo ma soprattutto anche per coloro che vogliono investire in questa regione perché spaventa per qualsiasi imprenditore investire in una regione in cui la tassazione è davvero ai massimi livelli. Leggi della regione molise impugnate oggi nel corso di una dinanza pubblica svolta al convitto Mario Pagano. I rappresentanti della Corte dei Conti hanno presentato la relazione sugli esiti delle attività di controllo svolte proprio sulle leggi adottate nel 2022 dalla regione molise verificando la scarsa copertura economica delle leggi per questo impugnate dalla Corte Costituzionale. La Corte dei Conti ha ribadito che i conti molisani della regione molise sono un disastro. Il commento della consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli sono gli stessi consiglieri di centrodestra copiati e incollati dalla precedente legislatura artefici del disastro economico che ha portato il Molise, unica regione in Italia, sottolinea Fanelli, a non approvare il bilancio generando un disavanzo di oltre 570 milioni a cui si aggiungono i 134 milioni dell'Asrem. Esultano per l'elemosina governativa dei 40 milioni indispensabili per approvare il bilancio regionale di previsione 2023, conclude Fanelli annunciando con giubilo che però purtroppo bisognerà aumentare le tasse ai molisani. La sanità dalla mattinata di oggi all'ospedale Santimotio di Termoli sono tornate in funzione di entrambe le TAC che a causa di un disguido di natura tecnica aveva reso inutilizzabili a partire da tenerdì scorso costringendo i medici a operare in evidenti condizioni di difficoltà. In alcuni casi i pazienti più urgenti sono stati trasferiti negli ospedali di Vasto e San Giovanni Rotondo dopo il sopralluogo del direttore generale dell'Asrem Giovanni Di Santo su ordine del governatore Francesco Roberti. Da oggi i macchinari sono turnati a funzionare. Torniamo alla cronaca. Andiamo a Lanciano, palestre, ristoranti e abbigliamento pagati con i soldi di una donna affetta da sindrome di Down e invalida al 100%. Amministratore di sostegno nei guai sequestrati beni per 27 mila euro. Ci racconta tutto Stefania Potente. Attingeva periodicamente dai risparmi di una donna con sindrome di Down e invalida al 100%. Con i soldi prelevati dal conto corrente della signora diversamente abile aveva fatto acquisti in negozi di abbigliamento o pagato ristoranti e palestre. L'amministratore è stato denunciato e sono stati sequestrati beni per circa 27 mila euro al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Lanciano su delega della Procura. Le fiamme gialle hanno ricostruito il raggiro messo in piedi nei confronti della sfortunata vittima nel cui conto corrente confluivano i lasciati dei genitori defunti, la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento e la pensione di reversibilità del padre. L'amministratore di sostegno spendeva i soldi effettuando pagamenti con bonifici, assegni bancari o utilizzando le carte Bancomat. Il tutto è emerso sempre dalle indagini della Guardia di Finanza per finalità non autorizzate dal giudice tutelare. Una volta determinato l'illecito profitto, su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanciano ha emesso un apposito sequestro preventivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'indagato. Beni mobili e immobili, titoli di credito, giacenze di conto corrente per una somma complessiva di 27 mila euro. La politica abruzzese, la filiera Meloni-Marsilio è un grande blef dall'Aquila. Silvio Paolucci attacca il governo regionale e la Premier per l'Abruzzo meno infrastrutture e risorse. Sentiamo tutto da Sabrina Giangrande. Nell'aula consigliare Sandro Spagnoli nel Palazzo dell'emiciclo all'Aquila si è riunito il Consiglio regionale. Nella seduta sono stati discussi diversi documenti politici. Il consigliere Silvio Paolucci in particolare ha portato l'interpellanza inerente alla linea ferroviaria Pescara-Roma. Abbiamo chiesto intendimenti, cosa intende dunque fare il Lumi circa il taglio sulla importante strategica infrastruttura ferroviaria Roma-Pescara portati avanti dal governo Meloni. Un miliardo e quattrocento milioni di euro che sono stati sottratti a questa opera strategica per la nostra regione. Abbiamo sottolineato come la filiera Meloni-Marsilio non funziona affatto per l'Abruzzo. Le risposte sono state assolutamente evanescenti. Di fatto non c'è alcun impegno. Persino i lotti 1 e 2, quelli che furono sottratti per quanto riguarda le coperture, 620 milioni di euro dal PNRR, non sono stati reintegrati. Ecco che allora noi siamo qui di nuovo a denunciare che Marsilio è un grande blef e che l'accoppiata Meloni eletta nel collegio L'Aquila Teramo. Marsilio ha sottratto tanto all'Abruzzo, tanto in termini di infrastrutture, tanto in termini di risorse, ben un miliardo e mezzo sulla ferrovia, tanto in termini di trasportistica, 5 voli sottratti a Pescara e assegnati per esempio ad Ancona. Il consigliere pentastellato Francesco Taglieri, presente anche lui nella seduta, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla tardiva insufficiente manovra legata alla legge sul superbonus. Ha una legge che arriva tardiva in regione Abruzzo, una legge successiva a quelle che sono delle proposte e atti di programmazione presentate dal Movimento 5 Stelle all'inizio di quest'anno. Più che il superbonus in questo caso sembra che si parli di superpropaganda, è una realtà naturalmente che non funziona, una misura molto piccola rispetto a quelle che sono le criticità delle imprese e dei lavoratori. Parliamo di una misura che potrebbe raggiungere al massimo 12-15 milioni di euro per una quantità di crediti incastrati nel triennio superiore 600 milioni. Io non credo che si troverà soluzione, vorrei ricordare a questo centro destra, sia a livello regionale che a livello nazionale, che sia nell'ultimo consiglio fatto straordinario a marzo la loro opposizione netta e critica nei confronti di una misura straordinaria che ha portato più 11% del prodotto interno al mondo di questa nazione, tantissimi posti di lavoro, tantissimi vantaggi. Oggi cercano di recuperare un vulnus, un errore di legislatura fatto sia a livello nazionale che a livello regionale, ma secondo me è troppo tardi, non servirà assolutamente a nulla. E questa mattina a Campobasso, mondo accademico, enti locali e parti sociali a confronto sul contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, evento che ha seguito per noi Samantha Cialla. Calano gli infortuni, crescono le malattie professionali, sono i dati dell'INAIL, resi noti a Campobasso dal direttore regionale INAIL Molise, che sul territorio gestisce un portafoglio di circa 17.000 clienti, che complessivamente sviluppano oltre 21.000 polizze assicurative per il rispettivo personale impiegato. Dati forniti nel corso del forum della prevenzione Made in INAIL, giunto in Molise dopo aver toccato altre regioni italiane. Per gli infortuni la diminuzione è stata del 33%, quindi potrebbe essere un dato più che positivo. Abbiamo invece perplessità sull'aumento che registriamo delle denunce di malattie professionali, dove il dato è quasi raddoppiato, siamo passati da 213 a 467 denunce ricevute nei primi nove mesi dell'anno. Ecco, lei ha detto che questo dato però è indicativo della situazione occupazionale della regione, perché? Potrebbe essere un indicatore, perché l'esperienza ci insegna che normalmente le malattie professionali crescono quando il livello di occupazione scende. La sicurezza in testa e nei nuovi investimenti il tema della tappa molisana. A Campobasso per l'occasione è anche il numero uno dell'istituto, che ha posto l'accento sull'importanza di approfondire in un'ottica sempre più partecipata il discorso della prevenzione, anche alla luce del nuovo contesto che vede, accanto a rischi tradizionali, anche rischi nuovi ed emergenti. Andiamo sul territorio per il fatto che noi stiamo combattendo due sfide nello stesso momento. C'è un versante della sicurezza che è affrontare i rischi tradizionali del mondo del lavoro, quelli che conosciamo da tempo, cadere da un'impalcatura, un trattore che si ribalta, rimanere chiusi in un ambiente confinato, significa morire come si moriva cent'anni fa. E questo è un versante. Ma ce n'è un altro ed è il motivo per cui oggi anche qui a Campobasso abbiamo un'aula piena di studenti, di ragazze e di ragazzi giovani, perché il mondo del lavoro sta cambiando. Cambiamento climatico, digitalizzazione, un paese che invecchia e quindi arriveranno nuovi rischi. A proposito di lavoro, nulla di fatto dopo il tavolo di Pescara. La Johnson Control licenzerà 60 operai. Gli americani dunque non sono disposti a tornare indietro. Sabato, corteo di protesta lungo le strade della Val di Brata. Ci sarà anche l'assessore quaresimale. Sentiamo tutto da Chiara Bonatti. Dopo il tavolo istituzionale, la Johnson Control ha confermato entro fine anno la chiusura della produzione a Colonnella con l'avvio della procedura di licenziamento per i 60 lavoratori. L'assessore quaresimale si è fatto carico di portare la vertenza al Ministero delle Imprense e al Made in Italy. La mattina di sabato 21 ottobre i sindacati hanno organizzato una manifestazione con corteo che passerà tra i comuni di Colonnella e Alba Drigatica. presente anche l'assessore quaresimale. È una situazione molto difficile. Abbiamo fatto il tavolo regionale. Purtroppo il rappresentante dell'azienda, il responsabile personale, non abbiamo avuto la possibilità di interloquire con i vertici. Ha confermato che ci sarà questo esubero entro l'anno. Però io ho subito e prontamente convocato un tavolo nazionale al Ministero delle Attività Produttive. Sto aspettando una risposta. Non ci fermeremo. La Regione farà tutto ciò che gli combete. Metteremo in campo ogni azione a tutela dei lavoratori. La Regione ha dato tante disponibilità alle aziende. Politiche attive, fondi per la formazione, fondi per mantenere i livelli occupazionali, fondi per fare nuovi investimenti. Al momento è una lotta contro un muro, ma non ci fermeremo. Noi vogliamo tutelare i 60 lavoratori, perché dietro i 60 lavoratori ci sono 60 famiglie e quindi le istituzioni in sinergia devono cercare di tutelarli. Sabato ci sarà pure il corteo. Sì, ci sarà questo corteo. Io sarò presente, farò ogni battaglia insieme ai lavoratori. Non ci tiriamo indietro, come dicevo, perché dobbiamo cercare di tutelarli. Andiamo a Isernia. Parliamo della demolizione, della ricostruzione dell'asilo di via Umbria. Il Tar ha rivoluzionato la graduatoria per errori nell'attribuzione dei punteggi da parte della commissione Nicola De Santis. Asilo comunale di via Umbria. Errori nell'assegnazione dei punteggi e nuova giudicazione. Il Tarmolise infatti ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Costruzioni SRL seconda classificata, difesa dagli avvocati di Nezza e la banca di Isernia, contro il Comune, affermando il sostanziale errore della commissione di gara nell'attribuzione di alcuni punteggi in favore della prima classificata. La procedura era stata indetta a seguito dell'ammissione dell'ente al finanziamento connesso al PNRR per l'incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia, mediante creazione di nuovi posti da demolizione e ricostruzione dell'asilo comunale di via Umbria per un importo pari ad 1.850.000 euro. L'accordo che seguiva l'ammissione al finanziamento prevedeva che entro il 31 maggio del 2023 l'ente dovesse concludere la gara per l'affidamento dei lavori. All'esito dell'espletamento della fase finanziaria, amministrativa e contabile, il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per un importo di circa 2 milioni e mezzo di euro. Alcuni errori nell'attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti hanno fatto però scattare il ricorso dinanzi al TAR. I giudici, dopo aver annullato la graduatoria di gara, hanno ordinato al Comune di rettificare gli esiti della procedura, adeguando la graduatoria al contenuto della sentenza e disponendo pertanto una nuova giudicazione in favore della società ricorrente con la quale dovrà essere stipulato, previa verifico ovviamente sulla titolarità dei requisiti, il relativo contratto. Torniamo ad occuparci delle naia di Pescara. Ancora polemiche, fiduzione non consona alle norme, l'ha detto questa mattina il consigliere regionale Antonio Blasioli, intervistato da Valentina Ciarlante. Sentiamo tutti i particolari dal servizio. Il tuffo del governatore Marco Marsile non ha convinto affatto Antonio Blasioli. Il consigliere regionale del PD da tempo sta denunciando quelli che definisce aspetti poco chiari relativamente all'affidamento della gestione ventennale delle piscine naia di Pescara al club acquatico. Il presidente, in occasione della riapertura, dopo le infinite polemiche del centro sportivo, aveva puntato il dito proprio contro l'esponente d'opposizione. Con lui l'impianto sarebbe stato chiuso fino a Natale, le parole del presidente, e non è tardata la replica del consigliere PD che, dopo aver effettuato l'accesso agli atti, ha rincarato la dose, denunciando ancora irregolarità nell'affidamento delle piscine alla società che, ha ricordato, ha 10.000 euro di capitale sociale. Oltre, diciamo, alle sue manifestazioni igieniche, potrebbe anche degnarsi di rispondere su queste critiche. La polizza fiduissoria, la garanzia provvisoria che doveva essere prestata dal club acquatico, è stato prestato da un soggetto, una società di mutuo soccorso, che quindi si occupa di assistenza agli indigenti, presta una fiduissione per 750.000 euro delle naiedi. Una società che non è iscritta all'IVAS, cioè alla lista tenuta tra quelli che possono, appunto, iscrivere e prestare fiduissioni, è tra l'altro una società che per statuto non poteva assolutamente prestare fiduissioni. Questo è causa di esclusione dal bando. Ci chiediamo se questo requisito è stato verificato o meno e lo chiediamo naturalmente al presidente Marsiglio. E da Campobasso, addestato allarme e preoccupazione, il pacco sospetto ritrovato questa mattina all'apertura dei cancelli della scuola di Via Leopardi dal personale scolastico. L'involucro di Colone Nero era stato sigillato con un nastro rosso e bianco. Immediata la richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte del dirigente scolastico Giuseppe Natilli, i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia sono stati allontanati per motivi di sicurezza e portati nel piazzale antistante la chiesa Mater Ecclesia dove gli insegnanti li hanno distratti con dei giochi e altre iniziative. L'involucro sarà accertato successivamente. Conteneva Eternit e il giorno antecedente era stato abbandonato nel bosco di fronte alla scuola. Sono in corso gli accertamenti per scoprire chi abbia lasciato il pacco in quel posto. E ora torniamo a parlare della defalagrazione alla Sabino Esplodenti, la fabbrica di Casal Bordino, nella quale hanno perso la vita due operai abruzzesi ed uno molisano. Lo scorso 28 settembre è stato depositato presso il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Pescara un esposto indirizzato anche alle procure di Chieti e basto. Lo rende noto la segreteria operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua nell'esposto a firma di Augusto De Sanctis si chiede in particolare di verificare la correttezza dell'operato di una serie di enti fra cui quello della Prefettura di Chieti. Già nel 2021, dopo la tragedia del 2020 con la morte di tre operai avevamo sollevato con specifiche osservazioni la questione dell'esistenza e dell'effettiva vigenza del piano di emergenza esterno per la Sabino Esplodenti che nelle carte non veniva neanche citato ha dichiarato Augusto De Sanctis. E dall'unanimità il Consiglio regionale del Molise dice no alla mega centrale di Pizzone sentiamo tutti i particolari dal servizio. Il Consiglio regionale dice no alla realizzazione di una mega centrale idroelettrica dell'Enel nei territori di Castel San Vincenzo e Pizzone. Approvata all'unanimità la mozione a firma dei consiglieri Salvatore Fanelli e Facciolla con l'aula che ha preso atto della netta contrarietà alla realizzazione dell'opera in un contesto unico dal punto di vista paesaggistico e naturale come quello individuato da Enel Produzione S.p.A. espressa da associazioni, enti e comunità locali gran parte delle quali riunite sia a Pizzone nell'Assemblea pubblica di domenica 17 settembre scorso. Il progetto dell'Enel riguarda la realizzazione attraverso il riutilizzo dei due invasi esistenti di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo di una nuova centrale da 300 MW da installare in galleria con condotte forzate all'adozione di turbine reversibili a velocità fissa e variabile installate in caverna. Un grazie è sentito a tutti i consiglieri regionali che hanno sostenuto attivamente la mozione e a tutti quelli che l'hanno votata le parole della consigliera Alessandra Salvatore prima firmataria della mozione. L'auspicio è che Enel, come hanno dichiarato i suoi dirigenti in audizione a fronte di questo no, rinunci ad un progetto che non può trovare spazio in un'area tanto meravigliosa quanto delicata soggetta a vincoli stringenti e a tutele rinforzate. Soddisfazione per la contrarietà del Consiglio regionale è stata espressa dal coordinamento No-Pizzone II che ribadisce la lotta è ancora lunga. Con una lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Premier Giorgia Meloni ad una serie di ministri ai parlamentari molisani oltre che al Governatore Francesco Roberti il Comitato Civico di Sesto Fronte Nord di Civita Campo Marano torna a sollecitare interventi per l'emergenza provocata dalla frana a sei anni dal disastro. Il Comitato ha incontrato l'assessore ai lavori pubblici Michele Marone per riprendere il confronto sul progetto da 8 milioni commissionato da Invitalia per la mitigazione della frana e che prevede un nuovo assetto urbanistico e abitativo del piccolo borgo molisiano. L'improvviso di Sesto del marzo del 2017, ricorda, il Comitato ha comportato l'evacuazione di oltre 20 nuclei familiari residenti nell'area delimitata quale zona rossa, a Civita Campo Marano poi ci sono i mobili di pregio storico e culturale come la Natale del patriota risorgimentale, il generale Gabriele Pepe. Auspichiamo risposte, fanno sapere dal Comitato, dalla nuova giunta guidata dal Presidente Roberti. Cambiamo argomento. Ci sono reazioni preoccupanti in Abruzzo e in Molise sui risvolti del nuovo regolamento controlli sulla pesca approvato a Strasburgo. Questa è la fine dello strascico e della piccola pesca. Con questo regolamento si considera tutti i pescatori dei criminali. Ha tornato Domenico Guidotti della Federco Pesca Molise. Il Parlamento europeo ha sancito che la pesca europea non può essere gestita puntando sulla sensibilità e responsabilità dei pescatori professionali ma li rende sorvegliate speciali attraverso un regolamento burocratico complesso e di difficile applicazione. È un regolamento che lede la dignità di questo settore e i diritti dei lavoratori. Il commento della direttrice di Feder Pesca, Francesca Biondo. ed il COSIB, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno situato nella zona industriale di Termoli è stato inserito in una delle sette zone franche ed uganali approvate all'interno delle aree della Zessa Adriatica interregionale Puglia-Molise. Il via libera è arrivato dal comitato di indirizzo della Zessa Adriatica presieduto dal commissario straordinario del governo Manlio Guadagnuolo. Ed ora andiamo a Roccaraso dopo un'intensa stagione estiva. Roccaraso si appresta a vivere una entusiasmante stagione invernale e tutte le fasi di preparazione nelle parole del sindaco intervistato da Vasquale Damiani. È iniziato l'autunno. A Roccaraso le occasioni per rilassarsi non mancano. Ma ora tutti hanno lo sguardo rivolto alla prossima stagione invernale. Protagonista assoluto sarà la neve. Il comprensorio della Rimogna con le piste di sci offre attività per tutti, grandi e piccoli. A pochi minuti dalle piste c'è il centro abitato di Roccaraso ed è qui che anche chi non ama sciare può cimentarsi in tante attività divertendosi con amici e famiglia. Una località turistica come Roccaraso ora attende solo l'arrivo della neve per aprire gli impianti ad inizio di dicembre. Ma cosa si prevede per la stagione invernale? Lo abbiamo chiesto al sindaco Francesco Di Donato. La stagione invernale si prevede una stagione molto molto positiva. Abbiamo da un punto di vista turistico molte richieste di prenotazioni alberghiere. C'è grande interesse in tutto il sistema della montagna soprattutto dopo una stagione estiva soddisfacente dal punto di vista diciamo da parte nostra come comune di Roccaraso. Il territorio dell'Alto Sangro sta rispondendo bene. Abbiamo naturalmente grandi iniziative da un punto di vista turistico nella stagione invernale. Stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative che sicuramente saranno ben accette ai nostri turisti. Non rimane che attendere solo la neve adesso? Attendiamo la neve ma Roccaraso e l'Alto Sangro è pronta con il sistema di innevamento artificiale anche per sopperire eventuali criticità da un punto di vista di temperature. E questo è molto importante e è un segno importante per il nostro territorio e per il nostro Abruzzo quello di investire su questo tipo di infrastrutture che portano soltanto un benessere per tutta la comunità. Venafro ha ricordato nei giorni scorsi le vittime civili del bombardamento alleato del 1943 attraverso la scopertura di una targa sul piazzale della Cattedrale. Nicola De Santis ne ha parlato con il sindaco Alfredo Ricci. Sentite. Nel piazzale della Cattedrale di Venafro si è svolta la cerimonia per ricordare le vittime civili cadute sotto i bombardamenti dell'ottobre del 1943. 18 persone innocenti in quelle tragiche giornate di ottobre persero la vita sotto le bombe degli alleati. Alla cerimonia ha partecipato anche il governatore del Molise, Francesco Roberti il quale nel suo discorso ha ricordato che la guerra porta solo distruzione e che la volontà di pochi spesso si ripercuote sui civili vittime innocenti dell'odio di chi governa. Anche il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci ha sottolineato che la storia dovrebbe essere maestra di vita e che invece l'uomo non sembra aver tratto alcun insegnamento dalle tragedie del passato. Questo è un bombardamento che è stato un po' sempre in secondo piano negli anni. Parliamo di 18 vittime e di una serie di bombardamenti alleati dell'ottobre 1943. Sappiamo che a Venafro il bombardamento più celebrato e ricordato è quello del 15 marzo del 1944. Da un po' d'anni si era ragionato di dare un giusto riconoscimento commemorativo anche a questi 18 civili. Devo dire che con la precedente amministrazione avevamo già iniziato un percorso in tal senso, insieme in particolare alla consigliera Anna Maria Buono. Poi la pandemia ha un po' interrotto i progetti che avevamo che era in particolare quello di installare una lapide commemorativa, cosa che abbiamo fatto quest'anno insieme all'associazione Winterline Venafro. È un segno di riconoscenza verso un lutto forte che Venafro ha subito nel 1943, 80 anni e è come sempre in questi casi un'occasione attraverso la memoria di dare un segnale anche alle nuove e alle future generazioni e mai come in questi giorni c'è bisogno di ricordare quanto la guerra possa provocare lutti e distruzioni e come quindi questi episodi vadano ricordati per superarli e per evitare che si ripetano. La storia e queste occasioni servono per poter ricordare, riflettere e riuscire a ricostruire insieme un futuro migliore. Bene, è tutto. Questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo e Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di giovedì 19 ottobre. In Abruzzo tempo stabile e per lo più soleggiato salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. venti moderati meridionali in attenuazione mare da mosso a molto mosso l'Aquila minima 8 massima 26 gradi Pescara 12 30 Chieti 12 30 Teramo 11 29 gradi Sul Molise c'è l'imprevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata venti moderati e mare mosso queste le temperature Campobasso minima 13 massima 25 gradi Isernia 13 24 Termoli 18 29 Venafro 15 26 gradi Bene è tutto vi ricordo che potete seguirci anche sui social sui profili ufficiali Facebook e Instagram Linea la regia consigli per gli acquisti ma restate con noi perché tra pochissimo c'è un'ampia pagina sportiva dunque a tra poco lo sport le ultime due partite ha sparato a salve zero gol e un solo punto portato a casa risultati che hanno fatto arrabbiare il tecnico Zeman sentiamo tutto dal servizio zero gol in due partite un paradosso per le squadre del maestro Zeman che in quanto a gonfiare la rete non hanno rivali eppure quello che è capitato al Pescara che in 180 minuti ha rimediato un solo punto nonostante una quantità industriale di occasioni create l'Arachini contro il Pineto poi il risultato ad occhiali al cospetto della Vispesaro complici errori sottoporta arbitraggio tutt'altro che casalingo e squadra avversaria che ha messo come sentirete dal mister due pullman davanti alla porta sono incazzato con con i miei direi che a parte a parte l'arbitro che non ha indovinato sempre tutto c'è pure la squadra avversaria che mettere due pullman una volta si metteva una ci viene difficile ci abbiamo provato ripeto a parte i primi 20 minuti che ci abbiamo regalato giocando troppo lenti poi la squadra ha cercato di costruire di fare anche costruito qualche cosa purtroppo quella cosa importante di chiudere di chiudere con gol non c'è riuscita forse è meglio anche così perché se facciamo gol loro si devono aprire a vedere poi che succede sullo sfondo una settimana la prossima da vivere tutta ad un fiato con tre gare in sette giorni domenica la trasferta a lucca poi due match casalinghi prima mercoledì la capolista torres poi domenica 29 ottobre l'area canatese tre partite che possono far svoltare la stagione e riportare i bianco-azzurri in corsa per il primato ed ora scendiamo nel torneo di serie D perché il Campobasso è impegnato in Coppa Italia per i 32esimi della manifestazione tricolore fischio d'inizio tra pochissimo alle 15 contro il Notaresco e vediamo velocemente la formazione scelta dal tecnico per golizzi per il match in programma questo pomeriggio esposito in porta tre difensori si tratta di Nonni di Bonacchi e di Pontillo centrocampo a quattro con ricamato Rasi Maldonado e Delgado e poi in attacco il tridente Lombari Corvino e Ripa questa dunque la formazione scelta da per golizzi 3-4-3 3-4-1-2 che dir si voglia vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni del nostro TG Sport con il risultato e a proposito del Campo Basso ieri pomeriggio il Club Rosso Blu ha presentato il nuovo direttore sportivo Sergio Filipponi che ha detto a dicembre subito rinforzi sentite rinforzi a dicembre lo dice subito il nuovo direttore sportivo del Campo Basso per Sergio Filipponi tuttavia è fondamentale ottenere fino all'apertura del mercato risultati importanti vibrazioni e sensazioni positive che aiutano ambiente e società a credere nell'impresa sentire sensazioni e vibrazioni positive aiuta tutti aiuti tutti quanti dalla proprietà che è sempre entusiasta ai calciatori che sentono poi che comunque si può arrivare a raggiungere qualcosa di importante l'obiettivo inutile girarci intorno e vincere il campionato il successore di Pino De Filippis ha le idee chiarissime su come si raggiunge il traguardo tutte le partite sono difficili perché comunque andiamo a giocare in campi dove ti aspettano quindi raddoppieranno le forze quindi da parte nostra l'attenzione l'allenarsi bene fare la vita d'atleta diventa determinante quindi questi sono gli ingredienti la corsa stare bene fisicamente fare vita buona sono componenti che faranno la differenza ovviamente poi i giocatori di qualità ci faranno fare il salto per per far vincere le partite ha parlato con la squadra in particolare con i senatori di un gruppo forte che deve ritrovarsi e spingere sul gas giocare a campo basso dice Filipponi durante la conferenza stampa di presentazione deve essere un privilegio per tutti le risposte le risposte che danno loro sono quelle che poi mi fanno capire e decidere per per la permanenza o meno di un ragazzo qui a campo basso perché per me stare a campo basso a campo basso è un privilegio e lo devono essere e deve essere anche per loro le sensazioni sono state subito positive per Filipponi ci sono tutte le condizioni per arrivare fino in fondo da parte della proprietà ho visto una grande disponibilità e il presidente e il vicepresidente sono sempre disponibili e mi dicono sempre qualsiasi cosa siamo qua questo per al di là del calcio per un dirigente è fondamentale sentire il supporto della proprietà restiamo in serie D e parliamo del Chieti autentica rivelazione del raggruppamento F zero gol e in 540 minuti Vincenzo Ciccone un'affermazione che mantiene il Chieti al vertice della classifica con dati alle spalle di assoluto spessore come quelli che partono da una difesa granitica nessun gol subito in sei gare Michele Spinelli tra gli interpreti della retroguardia teatina è felice e lo lascia ben intendere al termine della gara con il Tivoli match peraltro particolarmente spigoloso è stata una partita dura siamo stati concentrati siamo stati bravi a sfruttare dei momenti della partita e siamo contenti di averlo fatto per il giocatore teatino inoltre questa stagione è anche una sorta di rivalza dalle tante problematiche vissute vi parlo sinceramente con il cuore in mano non è stato un periodo semplice un periodo facile ho dovuto lavorare tanto mentalmente fisicamente per per riuscire a rialzarmi i miei compagni mi sono stati vicino la mia famiglia il presidente il direttore il mister tutti quanti mi hanno mi hanno cercato di dare una mano la squadra si vede anche in quello sono stato sono felice che comunque ho dato tutto me stesso e ho cercato di dare sempre un certo esempio ai miei compagni e a tutti poi il difensore Nero Verde entra nel merito di un'annata che con mister Chianese è molto improntata sui concetti in settimana lavoriamo molto sui nostri concetti e sappiamo l'importanza di questa annata e cercheremo di sudarci la maglia ogni partita del resto la stagione si preannuncia in tenza ed in casa Chieti non si vuol perdere nessuna occasione siamo lì sopra però il campionato è ancora lunghissimo è molto lungo e cercheremo di pensare partita dopo partita guardare la classifica adesso è bello ma è riduttivo quindi cerchiamo di pensare passo dopo passo scendiamo in eccellenza in eccellenza Molisana campionato dominato da Lisernia San Leucio che gira e gira bene anche grazie alla regia di Damian Ruben Soria che è stato intervistato da Pasquale Damiani Soria Cascio Lopez il trio delle meraviglie e poi Regner ti manca è Regner scusa quindi ha detto bene quindi siete quattro moschettieri eh sì sì ci conosciamo già abbiamo giocato tutti insieme Puglia e quindi ci conosciamo quindi comunque la cosa bella è che c'è molto affiatamento in tutti i reparti e questo è bello e anche e soprattutto una preparazione altredica eccezionale sì sì abbiamo fatto una una grande preparazione e ogni partita si vede che no che no molliamo un attimo e quindi stiamo illusionati tutti illusionati Soria il vecchio centrocampista metodista un po' orchestratore di gioco dalla metà a campo in su che obiettivi spera di raggiungere quest'anno? Beh gli obiettivi che abbiamo tutti no? che pensiamo tutti vincere il campionato questo è il terzo anno che sto nella società che no il primo anno il termo lì me l'ha tolto dopo il campo valso speriamo che sia questo anno un presidente che comunque vuol raggiungere la Serie D come tutta la tifoseria che anche giocando a Cerro Volturno vi segue numerosa Sì speriamo noi tornare al nostro campo noi vogliamo giocare là speriamo anche più tifosi più gente penso che la città merita una piazza in Serie D però è quando tu stai in eccellenza che devi devi stare lì con noi tutti insieme L'importante è però che il campo consenta di giocare al calcio perché fino all'anno scorso Lisenia giocava su un campo di patate Sì e speriamo che il campo stia proprio in condizione altrimenti giocheremo qua questo campo è ottimo per fare il gioco che vogliamo noi è importante che Lisenia continui a giocare in questo modo quindi ha bisogno di un campo decente e questo di Cerro permette a voi di fare il gioco spettacolare spumeggiante che state facendo assolutamente noi abbiamo detto quelli con la società i ragazzi eppure i tifosi se il campo nostro non c'è in condizione e non permette di fare il nostro gioco continuiamo a giocare qui a Cerro Chiudiamo con il basket trovare continuità ed andare a segno anche in esterna forti del fattore pala tricale imbattuta tra le mura amiche la palla a canestro Chieti si proietta ad un altro match interno domenica con Ravenna intanto questo è il punto del coach Daniele Agnello ancora Vincenzo Ciccone un successo figlio di una prova di assoluto spessore il coach di Chieti Daniele Agnello ha di che essere entusiasta dell'exploit interno ottenuto domenica in occasione del derby contro una Roseto fino a quel momento imbattuta intanto comunque onore anche agli avversari che secondo me hanno fatto una grande partita soprattutto diciamo che dopo i primi nostri credo cinque minuti ottimi ci hanno un pochettino messo in difficoltà con alcune soluzioni tattiche noi siamo stati secondo me eccellenti nella seconda parte della partita oggettivamente sia dal punto di vista tattico facendo due piccoli adeguamenti ed anche dal punto di vista del diciamo emozionale dello spirito di gruppo e di questo sono molto contento perché credo che questo messaggio oggi sia passato ed è passato di fronte a un grande pubblico una partita giocata in un'atmosfera veramente bellissima una di quelle che fa piacere stare in campo o in panchina per certi versi ormai si può parlare dei fattori palatricalle in casa biancorossa con la prospettiva ora di un ulteriore match interno quello con Ravenna da parte sua però il tecnico in prima battuta si augura di poter lavorare con maggiore continuità e di riuscire a trovare sorrisi anche lontano dall'Abruzzo mi piacerebbe riuscire a trovare continuità anche nelle partite in trasferta è vero che pochissimo ha iniziato il campionato da pochissimo la nostra l'ho ripetuto anche qui dopo la prima partita con Iesi in casa la nostra fase di preparazione ha avuto parecchi intoppi inserimenti di giocatori importanti nuovi e quindi dobbiamo usare finalmente una settimana intera toccando ferro per poter prepararci bene noi e poi chiaramente essere pronti ad affrontare Ravenna che è un avversario che per esempio la settimana scorsa ha messo in seria difficoltà Roseto bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci